Puoi essere pure il re. Il fatto che sei consigliere comunale non mi fa un tuo servitore e ne mi obbliga ad avere rapporti con te. Inizia così su Facebook il lungo sfogo di Michele Gioia, diretto a Valerio Longo, portavoce della coalizione dei pattisti. Dimostri sempre di più, continua l'assessore alle politiche sociali del comune, di non sapere nulla e di non capire niente. Io non ho ottenuto nessun incarico al di fuori della nomina di assessore, nessun mio amico ha ricevuto incarichi perché nessuno di loro ha niente a che fare con la politica. Io non ho mai fatto il segretario della federazione di AN, né il capo staff stipendiato durante l'amministrazione Zara, né quell'amministrazione mi ha dato un posto di lavoro senza concorso in Alba Nuova. Le mie dimissioni sono nelle mani della sindaca, conclude Gioia. Sono consigliere comunale, seppure fosse antipatico, risponde Longo e tenuto a portarmi rispetto. La sua nomina di assessore il giorno dopo la vittoria l'ha messa davanti a ogni altra cosa buttando nel secchio dell'immondizia gli amici candidati o sostenitori di Fratelli d'Italia. Al centro della polemica su Facebook c'è la chiusura della scuola materna in Via Turco, il mancato nuovo bando pubblico di affidamento denunciato da Longo con una relativa presunta perdita di 50.000 euro. E l'apertura di un'altra scuola materna in Via Indipendenza. Parla di miei eventuali e presunti interessi personali, conclude Longo. Di contro lei e i suoi amici avete ottenuto incarichi e nomine.